Un botto tremendo che ha richiamato l'attenzione di centinaia tra studenti e professori che ieri mattina si trovavano all'interno dell'Istituto Tecnico per Geometri Galilei-Vetroni di Piazza Risorgimento. Un boato provocato dall'esplosione di un grosso petardo innescato nell'aula che ospita gli studenti della prima classe della sezione A geometri che, fortunatamente, al momento della deflagrazione si trovavano nel laboratorio di fisica per un'esercitazione. Intorno alle 12.30 qualcuno è entrato all'interno dell'aula nella quale erano stati lasciati i zaini e i cappotti ed ha posizionato il petardo sul pavimento. Innescata la miccia il balordo è scappato via. Pochi istanti dopo è avvenuto lo scoppio che ha messo in allarme praticamente tutti i quattro piani dell'edificio. La deflagrazione ha danneggiato un banco e due plaffoniere in plexiglass dell'impianto di illuminazione. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi gli agenti della volante, la polizia scientifica e gli agenti della Digos che hanno avviato le indagini ed ascoltato alcune persone. Gli investigatori hanno anche sequestrato alcuni residui dell'involucro del petardo.